E' il telefono Samuele, è il ruso, ti faceva la domanda o ci mette? O ci metterò? Ci metterò un po' Ecco l'anno, a che ora? A che ora? Ma hai detto il tempo che ti metti per saltare? Ah, ma aspettandola, vabbè, seguitamme, seguitamme! Ok, un po' Sì, è un po' E un po' Sì, non incontriamo, anche un po' Non c'è un po' Il tempo era più difficile Che fa? Sì,board Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.